Benvenuto! Sei interessato all'analisi matematica o semplicemente sei uno studente di un qualche corso di analisi? Facciamo un gioco. Pensa a un argomento che hai ritenuto particolarmente difficile. Scommetto che si tratta delle serie o degli integrali generalizzati. Ho indovinato, vero? Effettivamente dalla nostra esperienza di docenti vediamo che entrambi questi argomenti vengono percepiti in maniera complessa dagli studenti. Sarà perché forse non sono trattati o lo sono solo in parte alle scuole superiori, oppure perché entrambi hanno a che fare con il concetto di infinito, un concetto che come esseri umani facciamo fatica a concepire. Ma mentre ormai siamo abituati all'idea che una somma di infinite cose faccia infinito, quello che facciamo veramente fatica a concepire è la che la somma di infinite cose possa dare un numero finito. È per questo che abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione su questi due argomenti. Il corso prevede un gran numero di esercizi risolti, assieme a diversi test di autovalutazione. Gli argomenti sono presentati in maniera graduale e per questo sono adatti a un pubblico piuttosto vasto, matematici, fisici, studenti di ingegneria, di informatica o anche semplicemente cultori della materia. Bene, che aspettate? Iscrivetevi subito al corso e lavoriamo insieme. Buon divertimento!